Partenza dal Passo del Sommo, dell'anello più impegnativo di circa 60 chilometri. Siamo sulle sommità del Monte Sommo, 1600 e qualche mese. Un piede solo e la sigaretta in bocca. La sigaretta si è dimenticato! Non c'è più nessuno Pino. Ciao Capo! Purtroppo è nuvolo, la manica di disperati. Stiamo scendendo dal Monte Maggio, non dal Monte Maggio, Monte Sommo Alto. Via, 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 via! Buona sorella! Avanti ragazzi! Vado bene! Vado bene! Vado bene! Vado bene! Vado bene! Pressione! Bella questa qua! Vado bene! Vado bene! Vado bene! grande ripresa ragazzi grande ripresa cosa è successo carlo fagli vedere il reperto è un obice da... guarda è entrotto di qua è uscito di qua cos'è uno spoletto da che cosa? ecco che vorrei superarlo 200 gradini